Sono Filippo Sabatani e vi racconto la nostra storia. Siamo nati agricoltori e abbiamo scelto di coltivare il legame con la nostra terra. È qui, sulle colline romagnole, che si sviluppa l'intera filiera delle nostre uova. È una filiera di famiglia, perché ci mettiamo in gioco in prima persona, di generazione in generazione. È una filiera controllata, perché uniamo l'anima agricola alle migliori tecnologie, per garantire prodotti genuini, sicuri e rintracciabili. È una filiera corta, perché custodiamo tutti i passaggi nel raggio di un solo chilometro. Dalla terra all'uovo abbiamo scelto di seguire tutto da vicino. Coltiviamo noi i cereali per preparare i nostri mangimi. vegetali e bilanciati. Alleviamo noi le nostre galline, fin da pulcini, e lo facciamo a terra, all'aperto, con sistemi biologici e senza uso di antibiotici a scopo preventivo. Raccogliamo, selezioniamo e confezioniamo noi ogni giorno le nostre uova con impianti moderni per controllare al meglio la qualità. Distribuiamo noi direttamente le nostre uova per portarle in tavola sempre buone e fresche. Quello che conta è come scegliamo di fare le coglie. È come ci prendiamo cura delle nostre galline, che nei nostri allevamenti sono libere di esprimere comportamenti naturali per vivere in salute. È come stiamo attenti all'ambiente. Infatti, lavoriamo i nostri campi con l'agricoltura integrata. Usiamo fonti rinnovabili, soluzioni per ridurre gli sprechi e confezioni compostabili al 100%. Anche per i nostri collaboratori vogliamo fare la differenza. Dedichiamo risorse e servizi per il loro benessere, dentro e fuori l'azienda. È grazie all'impegno di tutti che la nostra filiera è un mondo di buone scelte. Le persone che lavorano con noi lo fanno con una passione comune per le cose fatte bene. Così, le nostre uova incontrano la sensibilità di chi è attento a comprare in modo responsabile e consapevole. E le buone scelte in filiera diventano buone scelte in tavola. Così, le nostre uova incontrano la sensibilità di chi è attento a comprare